Fareste l'accordo a una donna che è saperca che è irraggiungibile. Le donne di oggi sono molto disponibili, però forse le serve più se sei irraggiungibile. Eh, è caso due. Oh, 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 è irraggiungibile in modo dire. Ah sì. Mi pare che è l'unica donna che ha la pericolzionata. Sì. Eppure, è un raggiungibile, immostrato come la gina dell'intero. Ah sì, questo. E allora, ti ho sempre detto. a te piace la fatica di questa riuscire a convincere a me piace la fatica ma non mi dice riuscire ahhh perché è una piatura riuscire e si poi due è l'altra che l'idea no no non è la fatica la fatica su questo qua non lo applico al dono lo applico comunque anche nel mondo della cultura assolutamente è troppo facile e non vale la pena comunque anche almeno un po' così per questo non molto contento perché ho detto a faticare abbastanza per convincere l'ordineo che era come e dunque sono arrivata quasi ero con grande fatica e questa è una grande situazione ah la si domani mattina facciamo domani mattina mettiamo la sveglia presto o no? bisogna che salta pressione prima prestissimo prima che lei ha pregiocchi ah si? comunque no non fare rumore quando mi lascia dormire con la palestina però ah no ma se vediamo bene quando il prego ci vado via fastidio ah vabbè allora adesso perché non è che ci aspetto al petto di domandina siccome il prego ci vado via fastidio